Forse è una delle peggiori partite della mia squadra, una squadra che in campo ci è entrata pochi minuti e non abbiamo avuto quella fame che dobbiamo avere tutte le domeniche. Dispiace anche perché loro non credo abbiano fatto chissà cose di trascendentale per poter vincere 2-0 una gara, però non abbiamo fatto noi quello che dobbiamo fare. E quindi il risultato al di là del 2-0 è giusto e quindi accettiamo questo. L'ha impostata per sfruttare le ripartenze con un 4-2-4 nelle ripartenze, che era un 4-4-2 che si trasformava in un 4-2-4 e poi nel secondo tempo ha cercato di allargare sulle fasce inserendo il numero 18 ma non ha dato i frutti. Sì, ho letto bene la partita. La mia intenzione era quella proprio di cercare di prenderli sugli esterni anche perché centralmente non ho un attaccante di riferimento con queste caratteristiche. E quindi ho cercato di entrare con le ripartenze con uno scarico e l'attacco dello spazio. L'abbiamo fatto in qualche occasione e io penso che la partita sull'occasione di Mercuri poteva cambiare, poteva cambiare, però questo non è successo. Non siamo stati bravi a mettere quella palla dentro e mentre loro hanno approfittato nel primo nostro errore, una marcatura molto larga in area di rigore, hanno fatto gol e poi sono stati bravi a difendersi. Comunque per quanto riguarda queste ripartenze che lei ha cercato di sfruttare, la squadra era ben disposta in campo. Abbiamo visto che dopo la partenza del Brancaleone che ha creato due occasioni, poi avevate conquistato il centrocampo e il Brancaleone non riusciva più. E al 35esimo, poi quando ha sbroccato il risultato, poi è andato in avanti. Ma abbiamo visto la mancanza forse a centrocampo di qualcosa, di un giocatore dai piedi buoni con le idee chiare? No, diciamo che noi in mezzo al campo abbiamo Arabia Balsamo che è una coppia ben assortita. Davanti mi mancava l'attaccante di riferimento, dietro c'era il nostro Riolo che è sempre quel trequartista che ti dà l'ultima giocata. Per oggi ha dovuto fare, diciamo... Si è fatto punta e mezza punta. Quindi si è trovato in difficoltà da questo punto di vista, però non posso dirgli niente perché si è impegnato tantissimo. Ripeto, il Brancaleone oggi credo abbia avuto più voglia, più fame di noi. E noi invece questo non l'abbiamo fatto e di questo sono rammaricato. Comunque io penso che questo incontro potrà dare a lei delle utili indicazioni per il preseguo del campionato, dall'alto dei 29 punti che il Cutro ha in classifica. Si, sono 29 punti ma dobbiamo guardarci dietro. Purtroppo, lo dico sempre, fin quando non siamo tranquilli il campionato d'eccellenza riserva delle sorprese. Oggi ho visto che il Bocale ha vinto con il Gallico, quindi la media salvezza aumenta domenica dopo domenica e quindi dobbiamo stare sempre attenti. La mia rabbia, diciamo, era proprio questo come per me era uno scontro diretto, l'abbiamo perso. E quindi dobbiamo prepararci per domenica perché dobbiamo affrontare il Castrovillari. Grazie, mister. Grazie a lei, grazie a lei.